2.492 piante di marijuana in perfetto stato vegetativo, che in un'altezza compresa tra i 60 e i 180 centimetri, coltivate su più terrazzamenti e fornite di un sistema di irrigazione artigianale ben congegnato, collegato direttamente ad una fonte di acqua sorgiva, sono state scoperte dai carabinieri di San Donato di Ninea, nel Cosentino, grazie anche all'aiuto dei cacciatori di Calabria, che hanno patugliato per giorni l'intera area interessata in una zona molto isolata e lontana dalle strade e dalle abitazioni, di Mitrofa al Cozzo del Pellegrino. I militari dell'arma avevano alcune informazioni riguardanti una piantagione nella zona. A questo punto si sono appostati, confondendosi nella fitta vegetazione, fino a quando non hanno notato un uomo che viveva in una tenda di fortuna distante circa 200 metri e che si avvicinava all'impianto di irrigazione per poi andare a controllare la crescita delle piante. Si tratta di un 33enne albanese che è stato bloccato, identificato e arrestato in flagranza di reato per coltivazione e detenzione di stupefacenti. Per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Castrovillari in attesa dell'udienza di convalida. Le piante di cannabis sono state estirpate e distrutte. Un campione è stato portato al laboratorio analisi sostanze di stupefacenti di Vibo Valencia così da definirne il quantitativo di principio attivo presente.